Ma io prenderò la parola grazie dal prefetto Rizzi e inizierò anch'io da una frase di Paolo Borsellino. Mafia e politica sono due organizzazioni che controllano lo stesso territorio o si fanno la guerra o si mettono d'accordo. A Caivano quanto sembra si erano messe d'accordo. Abbiamo visto che il comune di Caivano era stato sciolto per mafia, abbiamo visto, attendiamo l'esito ovviamente dei processi che se non sbaglio quattro componenti del consiglio comunale sono stati arrestati, abbiamo visto che la politica ha dato un pessimo esempio. Il presidente Colosimo, la presidente Colosimo, ci spiegava prima quello che ha intenzione di fare, è giusto esaminare i candidati anche fino alla quarta o grado di parentela eccetera. Poi c'è quello che potete fare voi come militanti, come persone iscritte a Fratelli d'Italia o qualsiasi altro partito. Perché vedete il problema non è tanto perché certe persone finiscono sotto inchiesta ma perché certe persone vengano candidate. La prima selezione che devono fare i partiti è nel momento delle candidature. Certo io lo so che in certi territori è più facile, più semplice prendere i voti candidando personaggi discussi. Perché è inutile raccontarci bugie. Chi ha rapporti con la criminalità organizzata è in grado di controllare anche pacchetti di voti. Perché e qua con la presidente Colosimo non sono d'accordo, non è vero che in certe zone dello Stato i cittadini anche quegli onesti sentano la mafia o le mafie come antistato. No, sentono la mafia dalla loro parte perché lo Stato non c'è. Se io non ho lavoro e il lavoro me lo dà un'organizzazione mafiosa, mi sentirò più vicino allo Stato più vicino all'organizzazione mafiosa. Se io muoio di fame o quasi e ho la possibilità di a mio di vedere mio figlio di quattordici e quindici anni a fare dei soldi andando a spacciare Ashish piuttosto che cocaina in piazza. Gli dirò di sì o gli dirò di no? E inutile che ci raccontiamo bugie. Abbiamo decine di storie nel sud Italia ma non solo ormai nel nord Italia perché la linea della Palma è arrivata ben oltre Milano che ci raccontano come l'organizzazione criminale intervengono sui piani regolatori. Intervengono sui piani regolatori in genere per convincere i politici dei consigli comunali per far cambiare loro il piano. I politici lo fanno molto volentieri perché alcuni di essi sono stati eletti grazie ai voti delle organizzazioni mafiose. In quel posto viene costruito in quel posto viene costruito un impermercato. Le persone che lavoreranno del mercato e lo sappiamo tutti ci sono decine di inchieste verranno scelte in parte dalle mafie in parte dalla politica così ci saranno ritorni elettorali e ci saranno ritorni da parte dell'organizzazione mafiosa rispetto alla persona che gratta all'organizzazione che gli ha trovato il lavoro segnalerà quando passa la volante della polizia sarà disposta a nascondere una pistola o dare una mano a un latitante e allora qui arriviamo al punto la scelta che deve fare la politica allora è inutile che ci raccontiamo qualche volta capita voglio dire che uno candida la persona sbagliata qualche volta molte altre volte si chiudono uno o due occhi perché quella persona porta i voti è inutile che ci raccontiamo bugie è accaduto nel vostro partito è accaduto in tutti i partiti e visto che voi rivendicate giustamente ne sono felice l'esempio di un magistrato di destra che era scritto al FUAN da giovane come quello come Paolo Borsellino volevo leggere due righe uno degli ultimi discorsi di Paolo Borsellino che dice c'è stata una delega totale inammissibile nei confronti della magistratura e delle forze dell'ordine occuparsi esse solo del problema mafia e c'è un equivoco di fondo si dice che il politico era vicino alla mafia e che quel politico era stato accusato di avere interessi convergenti con la mafia per la magistratura però la magistratura non potendo raccertare le prove non lo ha condonato ergo quell'uomo è innocente questo discorso dice Borsellino che non era un giustizialista ma era semplicemente un uomo di buon senso non va perché la magistratura può fare solo un accertamento giudiziale può dire beh ci sono sospetti sospetti e gravi ma io non le prove non ho la certezza giuridica per condannare quell'uomo la politica però secondo me può fare un altro discorso il garantismo deve valere nelle aule dei tribunali dove ciascun cittadino è non colpevole fino all'ultimo grado di giudizio in politica se si vuole cambiare questo paese paese secondo me dovrebbero valere dei principi di elementare buon senso tra una persona che è raggiunta da degli schizzi è sospettata e una che è candida io candido io candido quello che candido e non il secondo perché faccio delle scelte lo so certe volte queste scelte potranno essere sbagliate ma non l'ha mica ordinato il dottore di fare politica fare politica ricorrere per un incarico elettivo e essere eletto prevede onori e oneri diversi rispetto a quello dei comuni cittadini sottoporsi quindi al giudizio dei cittadini e non difendersi dicendo poi come capita ah però l'hanno votato il punto lo ribadisco è ah però l'hanno candidato veniamo a Caivano secondo me a Caivano io lo dico il governo sta facendo bene so che ci sono state polemiche nell'antimafia rispetto alle questioni di Don Patriciello che si era schierato a favore eccetera quello che il governo sta facendo a Caivano è positivo è positiva la presenza è positiva che si stiano mettendo a posto parco verde eccetera quando ci fu la stesa quando un mio amico un ex collega del prefetto Rizzi è andato in pensione credo che Rizzi conosca molto bene che è di Caivano ne parlavamo al telefono e mi disse poco fiducioso sarà come tutte le altre volte lo Stato si indigna va lì poi scompare Caivano mi pare che invece il governo ci sia andato dentro però dobbiamo dire anche la verità serve ed è giusto per i cittadini di Caivano non servirà per quelli del paese vicino la piazza di spaccio prevederibilmente si sposterà nel paese vicino ma bene che avvenga Caivano nel decreto Caivano ci sono tante cose delle cose buone e delle cose che invece secondo me riflettono un po' il vizio della politica sempre ma non il vizio di fratelli d'Italia di tutti i politici che vanno alla ricerca del consenso io mi rendo conto che bisogna avere consenso poi per governare è bello per esempio dire che i genitori che non mandano i figli a scuola verranno puniti con la con un processo penale e con la reclusione fino a due anni perfetto ma il punto è che in questo paese se si viene condannati a due anni di prigione non va in galera nessuno quello che accadrà è molto semplice si si intaseranno nel caso se facessero questi processi ulteriormente i tribunali di altri processi sostanzialmente inutili sono stati molti i provvedimenti anche di questo di questo governo che in questo senso di fronte a una serie di emergenze si è ricorsi a delle grida manzioniane che non fanno coi conti con quello di cui si sarebbe dovuto parlare meglio nell'altro dibattito il dibattito precedente sulla giustizia va bene il garantismo va bene tutto eccetera ma il problema di questo paese è che la giustizia è troppo lenta e non funziona e perché non funziona perché in questo paese ci sono troppi processi rispetto al numero dei magistrati anche al netto dei magistrati pure fannulloni che ci sono e perché ci sono troppi processi e beh io sono convinto non riguarderà fratelli d'italia ma io ho maturato questa cosa una giustizia che non funziona non conviene è una giustizia che funziona non conviene perché è in grado di stabilire in tempi celeri chi è colpevole chi è innocente e questo vale per i poveracci ma anche per i ricchi e anche per coloro che vengono eletti pensate una delle mille cose che si sarebbe potuto fare non si è fatta io mi chiedo perché lo chiederemo poi a nordio io a nordio che conosco da tanti anni chiedo da tanto tempo un intervista che ancora non mi ha dato ma perché ci sono una serie di processi che vengono celebrati in primo grado da un giudice monocratico cioè da un giudice solo poi quando vanno in appello vengono celebrati da tre giudici ma se si era giudicato e questo che conseguenza che tu hai due giudici che sono occupati che a seguire un processo appello io ho fatto il io ho fatto il provincia giudiziario tanti anni nel novanta per cento dei casi in appello c'è un giudice relatore che conosce gli atti e gli altri fanno quello che dice che che dice il giudice relatore perché quei giudici non li prendiamo li mettiamo a fare altri processi un esempio il valore dell'esempio è importante ed è importante il valore dell'esempio da parte della politica eh so che si è dibattuto qua per esempio della questione del ministro Lollobrigida è bello che i ministri vadano a Caivano a farsi vedere e far sentire la loro presenza e io non discuto perché non lo conosco quelle che quelle fossero le migliori intenzioni del ministro Lollobrigida essere presente e probabilmente ha fatto un'ottima figura rispetto ai bambini che a Caivano eh lo stavano aspettando è riuscito ad arrivare non in ritardo ma l'effetto devastante che ha voluto che ha avuto magari non voluto il comportamento del ministro Lollobrigida che fa fermare un treno dopo averlo chiesto al capo al capotreno che gli ha detto di no telef viene telefonato ai ai piani alti finisce sui giornali rispetto alla credibilità non rispetto a solo voi che siete giustamente dei fan e dei sostenitori di Lollobrigida ma rispetto alla comunità dei cittadini questo ha voluto il sapore di un privilegio e questo è dannoso per fratelli d'Italia e per tutta la politica e per quello che secondo me il ministro Lollobrigida avrebbe fatto bene a spiegare io l'ho fatto con le migliori intenzioni ma mi sono reso conto di aver sbagliato scusarsi certe volte anche per chi ha degli incarichi così importanti è qualcosa di più perché io no io sbaglio eh come sbagliate voi tutti noi possiamo sbagliare ecco recuperare il valore dell'esempio secondo me è una cosa importante sulla giustizia su Caivano intervenire far sì che non ci siano si parlava di scuola ieri anzi stamattina a Caivano c'erano delle mamme che protestavano perché ancora in un paio di istituti non c'era riscaldamento eh sono piccole cose ma sono piccole cose che vanno seguite un'ultima cosa so che governare in coalizione non è semplice però questo valore dell'esempio dovete pretenderlo anche da da chi rappresenta gli altri partiti Chiara Colosimo sta facendo un eccellente lavoro sulle stragi nessuno di noi sa come sono andate le cose abbiamo solo delle ipotesi ecco eh vorrei ricordare a chiaro Colosimo che secondo me la commissione antimafia dovrà vagliare però sono certo per escluderle anche le ipotesi peraltro ancora aperte di fronte alla procura di Firenze che riguardano eh le eventuali responsabilità di Marcello dell'Utri ex fondatore di Forza Italia condannato in via definitiva a sette anni per concorso esterno probabilmente tutto falso ma se l'indagine va fatta va fatta a trecentosessanta gradi grazie